Ho votato questa manovra a condizione che essa venga verificata ogni trimestre per leggere che cosa sta succedendo attorno a noi, al di fuori di noi, perché sarebbe ancora più grave rispetto al rispetto dei parametri fiscali al pilota automatico se anche le leggi finanziarie divenissero piloti automatici che vengono realizzati in ogni circostanza economica, sociale e politica nel mondo.